Al presidio Sentite una cosa Dimmi Questo pranzo O meglio L'acquistate? Questo pranzo Questa cena È stata offerta Da un compagno Che ha fatto 68 Che ha deciso Di essere solidale con noi E stasera ci ha offerto Questa cena Speriamo di provarne tanti Così Più siamo meglio Si trova gente così C'è una certa solidarietà Ci vorrebbe tanta solidarietà Ma anche molti cittadini Che passano Sono solidari Tutta Torino dovrebbe essere Con noi Anzi Tutta l'Italia Grazie a tutti